Oh yeah, here we are. Beh, ti stai chiedendo perché il narcisista si mette lì a guardarti? Oh fammi vedere, fammi controllare, si mette lì a spiare, checking out your ass, controlla un po' il tuo social. Il punto è che il narcisista non è che ti ha lasciato in teoria, ti ha abbandonato. Il narcisista ti lascia un po' così, cioè ti abbandona e poi eventualmente fa orbiting, questa è la media, solida, classica che succede. Fa orbiting che significa? Orbiting significa che praticamente si mette lì e incomincia a rapportarsi con qualsiasi cosa che c'è intorno a te, compreso le visualizzazioni delle storie, ma non fa, non ti contatta in via diretta, quindi non ti contatta nel processo indirettissima, ok? E ovviamente tu puoi pretendere di controbattere in qualche modo, comunque chiarire, eccetera, ma alla fine lui è semplicemente sparito, ok? Ti ha semplicemente abbandonato, quindi non vedo perché tu debba concentrarti sul comprendere perché il narcisista ti sta spionando dopo che ti ha lasciato perché ti sta guardando, ma il motivo per cui ti spio, ok? A che ti guarda è perché vorrebbe un ritorno, eventualmente vorrebbe tornare indietro. Ci sono dei rimandi su quello che potrebbe essere il passato ed eventualmente vuole tornare al passato perché a chi non vuole tornare nel passato, a chi non piace l'idea di poter tornare nel passato in qualche modo. Cioè immagina una situazione dove tu riesci a rifarti al passato, immagina una situazione dove tu riesci a controllare di nuovo quello che avevi in passato, hai perso in passato, hai perduto. Boh, a me piacerebbe, credo che sarei entusiasta di poter fare una cosa del genere. Quindi lui ti lascia sospesa, ok? E ovviamente come lo prendi tu, questo modo suo di abbandonarti, lo prendi come se fosse una sorta di fine tremenda, eccetera, ma in realtà lo dovresti leggere in un altro modo, cioè dovresti leggere il motivo per cui il narcisista ti lascia come non mi servi più, un'altra persona mi sta dando più soddisfazione, quindi un'altra donna o un altro uomo mi sta dando più soddisfazione, credo che sia un'altra donna, insomma era un uomo che stava con te, e poi quando mi servirai tornerò, quindi quando ti sta spiando eventualmente lo fa per controllare e verificare che cosa stai facendo, cosa sta succedendo nella tua vita, ok? Quindi andandosene che cosa fa? Trai dei benefici, ovviamente eventualmente riesce in parte a lasciarti una porta aperta, quindi ti lascia una situazione aperta e chiaramente ti genera un dolore tale da creare una sorta di imprinting. Ora questo imprinting che il narcisista crea e genera è un imprinting che tra virgolette aumenta la percezione di legame, quindi ti sentirai ancora più legato a lui, lo vorrai ancora di più, desidererai ancora di più il narcisista ed eventualmente questo sarà proprio dovuto al fatto che ha troncato di brutto, che ha lasciato a sfreggio la situazione, ok? E ogni tanto torna a spiare e a controllare, quindi che cosa puoi fare, ok? Puoi innanzitutto applicare la damnazio memorie, ok? Perché dovresti applicare la damnazio memorie? Perché non vuoi ricordarti del narcisista, non vuoi che questa persona continui a vaneggiare o comunque, scusami, a dalleggiare nella tua esistenza, ok? Non vuoi che continui a esistere il narcisista, il narcisista non deve esistere sempre nella tua vita. Piuttosto dovresti semplicemente lasciarlo andare. La capacità di lasciare andare una persona determina la capacità e la possibilità di ripresa tua privata. Ovviamente più sono le situazioni dove non lasci andare il narcisista e maggiori saranno le chance che il narcisista continui a rimanere nella tua vita e che rimanga stabile e che generi un forte imprinting. Questo imprinting ti porterà a stare sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio sul lungo termine e non starai bene. Sarai malissimo, ok? Ed eventualmente il narcisista potrebbe anche addirittura spiarti per usarti come antagonista che non è il massimo della vita. Che significa antagonista? Antagonista significa che il narcisista ti mette all'interno della sua rete di contatti e ogni giorno quindi magari ha qualche micro rimando, ok? Magari ti vede le storie, continua a corteggiarti, eccetera. E tutto questo finalizzato a mantenere viva anche semplicemente la sensazione di triangolazione, ok? Cioè lui ti mette in sospeso, ti abbandona, ti continua a spiare, continua a fare orbiting e intanto frequenta un'altra donna, un'altra persona, qualcun altro di più interessante e questa persona che cosa fa? Entra nella sua vita, magari sembra interessante perché, non so, per X motivo spara un motivo che ti pare e poi usate per aumentare il potenziale di corteggiamento. Ovviamente questo potenziale di corteggiamento gli consente di sedurre ancora di più la persona che sta frequentando adesso. Cioè per un narcisista alla fine non esiste mai, ok? Dunque non dovresti nemmeno preoccuparti di fare di dimenticarlo perché tanto tornerà ed ecco perché io ti spingo a utilizzare ad amnazio memorie perché se tu definisci completamente la fine di una persona, determini la fine di una persona specifica, ok? E metti un tronco, metti un taglio netto, questa persona eventualmente smetterà di tornare, non avrà la possibilità, ok? Lui non vuole mai porre una fine e questo gli deve far venire paura perché se non vuole mai mettere una fine a quello che c'è fra voi, ok? Potrebbe semplicemente fare il suo porco comodo e tu non vuoi che qualcuno faccia il suo porco comodo. Vuoi più o meno che un narcisista invece debba in qualche modo subire lo stesso trattamento che gli hai dato tu, che ti ha dato lui, ok? Cioè devi prenderti la responsabilità di non farti nemmeno spiare dal narcisista, ok? Vieni lasciata o magari decidi di lasciare, stai male, ti inizi a riprendere e lui ti spia e lo fa perché? Solo per assicurarsi che tu stai ancora peggio, ok? Poi superi questa situazione, torni in palestra, fai tutte le tue cose, hobbies, eccetera e lui torna e dai lascianzi tornare. Se ti sta spiando c'è un problema, non hai fatto adannazione moria, non dovresti avere rimandi con il narcisista. Perché lasci che ci sono questi rimandi? Sforzati, spingi di fuori, spingi di tagliare, spingi di tagliare completamente, non giustificarti, cancella ogni cosa, archivia le giatte, oscura il profilo, cancella il numero di telefono, perché tenendoti sospesa per settimane, per mesi, qualche cliente, qualche persona, anche per anni, tenuta in sospesa, lui farà la vittima, è colpa tua se sono andato, come hai fatto tu a tradire questa cosa fighissima che c'era fra di noi, perché te ne sei andata, perché mi hai lasciato, queste sono le parole che userà, userà queste parole per fare che cosa? Per farti sentire in colpa, le persone che si sentono in colpa sono le persone più facilmente manipolabili, dunque se vuoi davvero sbarazzarti di questa situazione e se vuoi lasciare che lui continui a spiare il nulla, devi fare la dannazio memorie, dannazio memorie implica la dannazione della memoria di una persona, non permettere che un fantasma del passato rimanga ancora a, diciamo, torturarti durante la giornata, se ti sta spiando è perché ha una necessità del controllo, una necessità di verifica e checking nei tuoi confronti, fammi vedere che sta facendo, fammela controllare, forse torno indietro, forse faccio questo, forse faccio quello, ragazzi no, è imperativo la dannazio memorie, mi faccio un tatuaggio, oh ragazzi mi farò un tatuaggio, ho scritto dannazio memorie, ho deciso, mi faccio un tatuaggio, ho scritto dannazio memorie, questa cosa la dovete fare e rifare ogni volta che vi lasciano, è un narcisista, non è un narcisista, mi sta spiando, non mi sta spiando, lui ti spia solo perché ha un rimando fisico, un interesse fisico, e semplicemente perché è interessato a costruire delle cose fittizie, quindi torna indietro, ti usa come antagonista, e poi basta, e finisce in questo modo, se vuoi davvero sedurre un narcisista, e abbandonarlo, e annientarlo, seguimi qui e su youtube, se vuoi davvero, se vuoi davvero, se vuoi davvero, Grazie.